Andrea Zenga ha ricevuto una valanga di auguri per il suo compleanno. Non solo quelli dei fan o della fidanzata Rosalinda Cannavò, ma anche quelli di suo padre Walter Zenga, che Andrea ci ha tenuto a ricondividere nelle sue storie Instagram. Una foto che li ritrae insieme allo stadio con la dedica, ti voglio bene, scrive Walter. Per il festeggiato, come racconta in un video, è stato uno dei compleanni più belli ed emozionanti. Il rapporto con suo padre è stato al centro di diverse puntate del Grande Fratello VIP 5. Infatti, Andrea aveva raccontato di un rapporto quasi inesistente col padre Walter. I suoi occhi tristi avevano conquistato il web che l'ha sostenuto durante tutto il Grande Fratello. Ma grazie al reality, i rapporti si sono ricuciti e adesso tra i due c'è un bel rapporto. Infatti, in più di una puntata, il padre si è precipitato in puntata per riconquistare l'affetto e la fiducia del figlio. Da lì solo belle emozioni per il genitore e suo figlio, Andrea, che si vogliono un gran bene.